Gara di ritorno tra Eintracht di Braunschweig e Dinamo Kiev il 28 settembre del 77. In azione in maglia gialla l'Eintracht che ha pareggiato 1-1 come abbiamo visto e difende quindi quel gol in trasferta finirà 0-0 con 0 gol ma il passaggio del turno per la squadra tedesca di Braunschweig qui un'occasione forse la più clamorosa della partita con questo palo in diagonale ed è l'occasione più clamorosa proprio per l'Eintracht secondo tempo altra opportunità forse c'era anche un rigore per l'Eintracht di Braunschweig Sono le ultime occasioni per la Dinamo Kiev per poter sbloccare il punteggio fuori casa e passare il turno maglia bianca, appunto la formazione russa Batti e ribatti ma non c'è niente da fare l'Eintracht passa il turno pareggiando 0-0